La Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria è un'associazione radicata sul territorio italiano, con delegati regionali e provinciali. Nasce per rafforzare il valore del Made in Italy e per creare sinergie tra le aziende, i grossisti, le scuole e i professionisti. All'interno della Federazione Italiana di Pasticceria c'è un albo d'oro denominato Equipe Eccellenza Italiana, del quale fanno parte professionisti che hanno conquistato oltre 500 medaglie in concorsi internazionali e mondiali. Artisti e scultori della lavorazione del ghiaccio, dello zucchero, del cioccolato, sculture di burro, panificazione e intaglio di vegetali. Artisti che prima di tutto sono persone capaci e motivate che hanno voluto aggregarsi per dare la possibilità a tutti di poter crescere. La Federazione Italiana di Pasticceria offre ai propri associati una ricca offerta di servizi oltre a numerose convenzioni con aziende del settore, corsi di pasticceria, una serie di gadget personalizzati, tra i quali la giacca ufficiale, le targhe da esporre nel proprio locale come membro appartenente alla Federazione e persino alcune app gratuite con news e ricette. La FIP è una grande famiglia dove i problemi diventano soluzioni. Grazie a tutti.